Altro importante incontro questa mattina nel nostro territorio, questa volta a Villa delle Favare a Biancavilla per parlare del raddoppio della statale 284 nel tratto Adrano Paternò con il sottosegretario alle infrastrutture Giancarlo Cangelleri. Forte la presenza di rappresentanti delle istituzioni questa mattina accolti a Biancavilla dal sindaco Antonio Bonanno c'erano infatti fra gli altri il prefetto di Catania Maria Carmela Ribrizi, la senatrice di origini biancavillesi Nunzia Catalfo, l'assessore regionale Falcone, il sindaco metropolitano Pogliese, la deputazione catanese, il comitato pro raddoppio e altri ancora. Al sottosegretario Cangelleri ha detto il sindaco di Biancavilla Bonanno ho chiesto tempi certi sulla realizzazione e dichiarire l'aspetto che riguarda il finanziamento totale dell'opera sui 344 milioni necessari per il raddoppio, infatti mancano all'appello circa 170 milioni. La sua risposta data nel corso dell'incontro pubblico non lascia spazio fra intendimenti nel 2023 potrebbero iniziare i lavori. Ma sentiamo il sottosegretario ai nostri microfoni. Oggi però raccontiamo anche un'attenzione in più, quella del commissariamento. E' Ultimio Mucilli che è il responsabile delle nuove opere di Anas, sarà il commissario di quest'opera e servirà per accelerare sensibilmente gli interventi che verranno realizzati. Perché è arrivato il momento di cominciare a dotare questa parte della Sicilia che poi, attenzione, serve anche per la parte tirrenica per andare a prendere gli aerei all'aeroporto di Catania, questa strada. Quindi stiamo parlando di una strada di importanza regionale a questo punto, dobbiamo intervenire però nel più breve tempo possibile. Quindi i soldi ci sono, abbiamo un forte investimento anche nella parte da Adrano fino a Bronte con i 4 km in realizzazione di invariante per renderla ancora più sicura. E il raddoppio invece, quindi la tipologia B, tipo autostradale, invece da Adrano fino ad arrivare a Paternò. Quindi un intervento importante che vuole lanciare su questo territorio la grande attenzione. Oggi sono voluto venire qui a parlare con i sindaci e raccontargli di come il governo finalmente si è accorto che questo territorio ha bisogno di un'attenzione maggiore. Diciamo un intervento di messa in sicurezza è più che necessario, prefetto. È un'arteria molto importante, molto trafficata, quindi è necessario garantire sicurezza e quindi mettere in campo tutto quello che è necessario perché chiaramente questa strada possa essere percorsa con tranquillità. Lavoriamo da 12 anni a questo problema, a questa rispotesi di ampliamento, già fra il finanziamento originario di 97 milioni e 4 e gli altri che anche la regione aveva integrato siamo a 170 milioni di euro. Ce ne vogliono 340, mi auguro che porti la notizia di aver integrato il finanziamento. Diversamente continuiamo ad attendere cose che non esistono. La presenza del sottosegretario cancelliere qui a Biancavilla sta a giustificare anche la nostra presenza perché finalmente ha inizio il percorso della 284 che darà una svolta importante alla viabilità nel nostro territorio. L'inizio dei lavori della 284 e secondo l'otto che va da Bronte ad Adrano completerà quell'arteria. Poi la presenza anche del sottosegretario è importante perché dà anche un input all'iter per la 284 la paternò Adrano. Sì, oggi è un giorno importante. Poco fa entrando nella sala dove c'è il viceministro cancellieri insieme al sindaco e ai miei colleghi deputati pensavo quando iniziamo anni fa insieme al collega Giovanni Bull a fare le varie interrogazioni perché credo ne abbiamo fatte parecchio. E oggi è un momento di festa perché tutti insieme in sinergia tra le istituzioni, il governo nazionale, il governo regionale e la città di Biancavilla finalmente si sta iniziando a fare qualcosa di concreto. Io oggi insieme con Giancarlo Cancelleri qua a Biancavilla per rispettare l'impegno che ha preso il governo con De Bisse, in particolare col decreto Italia Veloce, quando il ministro era Paolo Ade Micheli, 66 milioni di euro per la Bronte Adrano, i lavori sono iniziati e l'allargamento della 284 per mettere in sicurezza una strada strategica per lo sviluppo della Sicilia. Il Partito Democratico continuerà a avvicinare sull'esecuzione di questi lavori e speriamo che nel più breve tempo possibile possiamo dotare questo territorio di infrastrutture importantissime.